Il Forking to Mobile è una delle principali funzionalità di un sistema telefonico IP. Consiste nel poter trasferire una telefonata in corso dal telefono fisso verso il proprio smartphone. Vi sarà infatti capitato di essere al telefono e di avere un appuntamento imminente. Questa funzionalità vi consente di poter avere continuità nella comunicazione in corso e recarvi verso l'appuntamento prefissato.